Eccoci qua, primo agosto, sabato, 50 gradi all'ombra. Niente, sono Dario Del Boho, consigliere comunale di San Nazaro-Sesia, di opposizione. Mi è venuta in mente una cosa. Allora, ci ricordiamo tutti che durante il lockdown ci si sfidava a delle sfide, diciamo, a chi doveva fare esercizi fisici, a chi doveva fare altre cose, eccetera. Allora, a me è venuta in mente una sfida su questo. Allora, qua siamo in via Andreoletti, purtroppo da tanto tempo la strada è stata rifatta, ma c'è questa sabbia ancora per terra che ovviamente non credo faccia piacere a chi abita qua, insomma, perché pensate solo quando piove cosa diventa sta cosa. Io ho sempre pensato che bisogna sempre lamentarsi, ma bisogna anche dare un po' ognuno di noi, no? Questo ovviamente è la mia opinione. Il proprio contributo alla comunità in cui si vive. E pensate cosa sarebbe se ognuno di noi, quindi io, chi guarda questo video, tutti, pulissero, ognuno di noi pulisse praticamente davanti al suo pianerotolo di casa, davanti alla sua abitazione. Cioè, esempio, adesso faccio esempio qui, ma... Cioè, giusto, vede come ha fatto questo signore. Cioè, pulire il pezzettino davanti alla propria abitazione, se dà sulla pubblica via. Se tutti lo facessimo, vivremo in un paese veramente super, super pulito. Quindi, ovviamente, bisogna dare, cioè, non solo parole, ma anche farlo. Quindi io, oggi, a 50 gradi all'ombra, sono qui con i miei secchiello, paletta, scopa e quant'altro. Non devo andare in spiaggia, la spiaggia ce l'ho già qui, e pulirò il mio pezzetto. In realtà io non abito qua, però, essendo un consigliere comunale, mi sembra giusto che, anche se non abito qui, in questa via, è fare la mia parte. Quindi mi prenderò, adotto, l'idea mia è adottare. Adotto un pezzo di strada. Quindi io ho adottato questo pezzo di strada, ci vorrà circa, penso, un paio d'ore, un'ora, adesso vediamo. Pulisco tutta questa via e sfido, ed è qui la sfida, i miei colleghi in amministrazione di maggioranza, però, quindi il sindaco, il vice sindaco, l'assessore, tutti i consiglieri, la capogruppo, tutti i consiglieri, quindi uno, due e tre consiglieri di maggioranza, e se vogliono anche i consiglieri colleghi dell'opposizione, a venire qui in via Andruletti e poi anche, insomma, tutto l'anello, diciamo, che abbiamo fatto, che il comune ha fatto delle strade nuove, adottare anche loro una strada e pulire la strada. Siamo in undici cristiani dentro il consiglio comunale tra maggioranza e noi dell'opposizione, per cui, se tutti veniamo qua a pulire, io adesso faccio già un bel tratto, lunedì questa strada è completamente pulita e ci vuole giusto un mezz'ora a testa, non di più. Quindi io sfido, lancio questa sfida ai miei colleghi del consiglio comunale. Io intanto comincio e spero che qualcuno la raccoglierà. Siamoci qua, finito, ce l'abbiamo fatta. Allora ho fatto ovviamente un pezzo, non potevo fare tutto, però guardate, qua è dove ad esempio non sono passato, e qui è invece dove sono passato, quindi è una bella differenza. Adesso vi sfido... Bravo, dai! Adesso, grazie. Adesso vi sfido colleghi sindaco, collega assessore, collega vice sindaco, e collega Marchetti consigliere, e scusate, mi sono un po' fuso, non vi ricordo di nuovo, va bene, ho sto scherzo, basta, perché poi gli altri sono donne e direi che le ragazze sono esentate, ci mancherebbe, quindi... E poi anche qualcuno dei consiglieri di minoranza, se vedranno questo video, magari loro sono meno social, però se vogliono anche loro, vi sfido, scegliete, adottate un pezzettino di strada, quella che volete, e venite anche voi a pulire. Se veramente... Io adesso ci ho messo tre ore circa, però ho fatto oggettivamente tanti pezzi, secondo me, se ognuno di noi, amministrazione, io non sono più amministrazione, amministrazione e consiglio comunale, si fa un'ora quando vuole, quando ha tempo, tutto questo anello di vie qua, lo ripuliamo da questa sabbia che c'è, completamente, e così poi la macchina spazzatrice può passare e fa, diciamo, la pulizia finale, perché purtroppo, avendo aspettato così tanto tempo per, diciamo, intervenire, ormai le particelle di sidice, di sabbia, si sono, diciamo, infiltrate nell'asfalto, lì ci vuole la macchina pulitrice, quindi, insomma, lì comunque una volta che togliamo la sabbia, abbiamo fatto, poi manca solo quello. Niente, quindi io la sfida che lancio ai miei ex colleghi di amministrazione, fatelo, vediamo, se non lo fate avete perso la sfida, quindi ho vinto io, però mi raccomando, perché io sono convinto che se tutti noi di San Nazaro, pulissimo, e molti lo fanno già, lo so che tanti lo fanno già, pulissimo solo davanti al nostro pezzettino di strada, proprio davanti al cancello, sulla strada pubblica avremo un paese tutto pulito, però siamo noi che siamo stati eletti che secondo me dobbiamo dare il buon esempio. Quindi, ciao ciao, grazie a tutti e viva San Nazaro!